La situazione degli incendi io lo dico senza remore, io non credo all'autocombustione, quindi io credo che ci sia una mano criminale che ritiene attraverso queste pratiche di conseguire non so bene quale profitto. Per questa ragione proprio qualche giorno fa in Commissione Giustizia noi di Fratelli d'Italia attraverso due emendamenti abbiamo ancora migliorato il testo del governo sugli incendi boschivi aggiungendo e questo ovviamente l'ho fatto personalmente anche alla luce dell'esperienza che avevo vissuto a Palermo, l'interfaccia urbano-rurale. Quindi significa che chiunque verrà beccato ad appiccare incendi alle porte della città, al ridosso dei nostri quartieri avrà come pene sanzioni accessorie molto più pesanti di quelle che erano previste nel passato. Come è noto il governo Meloni attraverso il ministro Mutumeci ha avviato l'iter per dichiarare lo stato di calamità la dichiarazione integrativa che era stata richiesta alla regione siciliana è stata trasmessa all'inizio di settembre quindi a breve anche per la Sicilia sarà dichiarato lo stato di emergenza e potremo concretamente aiutare i cittadini.